Per l'entrata in campo, esordio delle nostre ragazze della Virtus Castelfrentano di calcio a 5, è la seconda gara di Coppa Italia, il direttore di gare il signor Di Musio della sezione AIA di Lanciano, Montesilvano, calcio a 5, contro la Virtus Castelfrentano, calcio a 5, il Montesilvano con la divisa azzurra, il boccalupo, 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 le nostre ragazze, in boccalupo, in boccalupo, in boccalupo, in boccalupo ragazzi, con le nuove divise, l'esordio anche con le nuove divise giallorosse, le nostre ragazze, la panchina è corta questa settimana, solo due ragazze in panchina e 5 in campo, come detto ci troviamo all'unicentro di Montesilvano, cambiamo panchina, c'è mister Gabriele qua, mister Alessio, le nostre ragazze, con la divisa giallorossa, del nostro sponsor Adriano Gian Cristoforo, caldaglie e coltizionatori di Castelfrentani. Sono due tempi da 30 minuti, ecco è iniziato la gara, come detto le nostre ragazze con la maglia, con la divisa giallorossa, mentre le ragazze del Montesilvano con la divisa nera. Alle prossime riprese.